Ciao ragazze, allora sono qui a presentarvi un'iniziativa legata al discorso del Natale quest'anno abbiamo pensato di inserire una persona che vi potrà dare dei consigli mirati per fare tutti i vostri regali di Natale ai vostri cari, alla vostra famiglia è una persona che è specializzata in questo ruolo, si chiama Christmas Coach e vi aspetterà per fare una consulenza qua da noi chi aderisce a questa iniziativa avrà un meraviglioso regalo che abbiamo pensato da usufruire qui all'interno dell'istituto grazie, vi aspettiamo Francesca